quando la dodicesima casa comincia nel segno del toro si hanno delle indicazioni sul karma delle vite passate che possono riguardare tematiche vicine al toro che sono quelle dell'attaccamento ai beni materiali principalmente quindi possono esserci state se vogliamo vederlo ovviamente come delle tematiche dure importanti episodi in cui noi abbiamo eseguito dei furti oppure siamo stati poco generosi e non abbiamo dato abbastanza dal punto di vista materiale quindi un po avari oppure abbiamo dato anche troppo perché c'è comunque il concetto di squilibrio nel possedere nel dare nell'avere cose fisiche cose materiali quindi ci può essere un debito un credito karmico è chiaro che se c'è stata un atto criminale magari anche qui come nel caso della rieta ma anche di tanti altri segni c'è sempre l'ipotesi che si possa essere anche creata una situazione di morte o una sofferenza particolare o una malessere non è una ferire le altre persone è chiaro che possono esserci anche diciamo degli atti criminali collegati all'ingordigia del possesso se pensiamo ai film che vediamo quasi sempre le uccisioni sono collegate alla necessità volontà di avere più denaro o di guadagnare di più o di avere più beni materiali quindi possiamo associare questo tipo di negativi di atti negativi al segno del toro in dodicesima casa oppure potrebbe anche esserci stato un eccesso di spreco cioè un utilizzo delle risorse materiali con disprezzo c'è un eccesso di amore per le cose materiali nel senso negativo o l'eccesso di disprezzo per le cose materiali e c'è magari spesso anche la possibilità di avere che ci sia stato molto egoismo un eccesso di pensare solo a se stessi in senso materiale l'altra possibilità ancora quella che riguarda i piaceri della gola cioè se non vogliamo arrivare proprio a questi esempi estremi il toro è collegato anche ai peccati di gola quindi la l'ingordigia la mangiare troppo e in generale la parola chiave del toro sono i valori quindi l'idea di non aver seguito una vita secondo dei valori spiritualmente positivi nei valori di diciamo accettazione inclusione dell'altro ma piuttosto riferendosi solo al proprio bene personale quindi le lezioni riguardano il valore delle cose e delle persone le lezioni che si imparano nella vita successiva quindi chi ha il toro nella dodicesima casa che vuole anche dire che spesso nella maggioranza dei casi può avere il gemelli nell'ascendente sta imparando lezioni riguardo al valore qual è la lezione che uno può vivere in questa vita può esserci un eccesso una mancanza di beni materiali quando il karma si può anche vivere come eccesso può essere anche che la persona stia molto bene economicamente ma che questo eccesso di beni materiali gli impedisca in qualche modo essendoci l'attaccamento gli impedisca di avere delle relazioni soddisfacenti e quindi vive una vita di di possessi dove sente proprio la solitudine del non essere in grado di di creare delle buone relazioni oppure può anche esserci una vita in cui l'apprendimento è quello di imparare a condividere con gli altri questi beni e quindi magari la persona può avere anche atti di estrema generosità cioè non è che ripagare il karma voglia sempre dire soffrire per ripagarlo può essere anche qualcuno che in realtà magari non ha così tanto ma quel poco che ha col cuore lo vuole condividere e questo è una modalità molto importante perché poi la lezione in realtà è quella di non tenere tutto per sé nella diciamo nell'egoismo ma di essere in grado di offrire agli altri quindi paradossalmente non è che dobbiamo per forza vivere situazioni negativissime per ripagare il karma perché quello che conta per l'anima non è farci soffrire non è che è la sofferenza che desidera l'anima l'anima desidera che noi impariamo i veri valori che noi superiamo quella modalità di vivere di agire che era in una direzione sbagliata poco spirituale per cui potrebbe anche essere che che queste persone che hanno il toro in dodicesima casa abbiano anche tante risorse a disposizione e che la lezione sia quella di imparare a viverle con generosità e quindi a distribuirle in maniera magno anima chiaramente se si ritrovano con tante risorse e continuano ad avere l'atteggiamento avaro di trattenerle la lezione non viene imparata quindi è molto molto importante che ci sia questo atteggiamento di condivisione poi volendo si può parlare anche appunto come dicevamo accennavamo ci può essere stata anche un peccato meno meno grave che magari è quello di mangiare troppo di amare troppo il cibo e allora chiaramente la lezione di imparare è quella di essere moderati e quindi si potrebbero avere tutte delle tematiche collegate al rapporto col cibo in generale però ripeto come dicevo anche per gli altri segni non è che basta avere la dodicesima casa in toro per parlare subito di cose molto pesanti a livello karmica a livello diciamo di pesantezza e quindi di gravità della situazione karmica vissuta va valutato insieme anche ad altri altri simboli che si guardano nel tema natale in particolare nel caso del toro bisogna guardare venere cosa come messa perché è il pianeta che governa il toro bisogna guardare la sua relazione con saturno con marte con i pianeti che possono avere un significato karmico come anche urano plutone nettuno e quindi bisogna avere una lettura che va un po' oltre il segno però le indicazioni della modalità dell'energia del karma diciamo sono date dal segno quindi cominciare già a individuare quelle a vedere se ci risuonano è un qualcosa che sicuramente ci fa ci fa bene perché comunque un passo verso la comprensione migliore di noi stessi del nostro passato karmico e del perché proviamo certe siamo messi alla prova su certe particolari lezioni in questa vita quindi se qualcuno di voi ha la casa dodici dodicesima che comincia nel segno del toro e volete scrivere qualcosa nei commenti per raccontare come vivete se vi siete identificati in quello che vi ho descritto o se avete vissuto in modo diverso in questa vita e le vostre lezioni relative a questo a questa situazione mi fa molto piacere e quindi vi chiedo di scrivere